Tanto vale che ti arrenda, Mr. Mine! Shazam! Cosa? Quel fulmine l'ha trasformato in una specie di Super Elvis! Guardate che ciuffo perfetto! Il mantello! E quel pavero! Inamidato alla perfezione! Lo dobbiamo assolutamente conoscere! Adesso arrenditi! Ehi, 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 fratello, dobbiamo ammetterlo. Siamo davvero impazziti per il tuo stile. Oh, dei colleghi eroi. Forse potete aiutare. Scusami, una domanda. Com'è che ti chiami? Billy Batson? No, l'altro tuo nome, Shinza Palam. Oh, Shazam! Oh, ancora! Shazam! Wow! E' il fatto che lo dice!